iniziamo l'analisi del secondo proncone la seconda parte di rumor engine facente parte poi in realtà dell'advent engine quindi del calendario dell'avvento tutte quelle informazioni contenute nelle piccole immagini che abbiamo già iniziato a vedere durante lo scorso episodio oggi continuiamo quindi proseguendo esattamente da dove ci eravamo lasciati riutilizzeremo anche oggi in realtà la pagina la cheda di riassunto che abbiamo utilizzato l'ultima volta quindi il sito è quello di warboss kurgan che riassume diciamo tutto quel contenuto di cui oggi andremo a fruire ad utilizzare e a commentare ma insieme a questo vedremo anche un po di pagine prese direttamente dalla fonte principale che è appunto warhammer community quindi per questo motivo uniamo un po entrambe le cose ma iniziamo comunque dall'analisi attraverso warboss kurgan quindi io switcho rapidamente signori e andiamo qua eccoci come potete vedere l'ultima volta siamo lasciati proprio con queste ultime ultime riquadre le ultime immagini e nello specifico avevamo visto proprio concludendo l'immagine del 14 12 ovviamente è passato un po di tempo e sono uscite delle altre immagini ne dovrebbero uscire altre due se non ricordo male altre due dovrebbero mancare all'appello o addirittura tre per arrivare a conclusione probabilmente le ultime le lasceremo fuori perché cade oggi come dice insomma il giorno stesso il 22 torna scomodo per me fare poi un ulteriore episodio solo per altre pochissime immagini pochissimi rumor e quindi per questo motivo raggruppiamo soltanto due macro gruppi ma fatte le dovute precisazioni possiamo iniziare a calarci con una nuova immagine e come abbiamo visto anche l'altra volta non si tratta soltanto di close up di focus dettagliati su modelli che ancora non sono stati rivelati come questi ma visto anche l'altra volta ci sono queste queste riquadri contenente appunto i frammenti di frasi quindi anche di narrativa se così vogliamo definirli e il 15 12 ci si presenta una frase che a mio parere a mio parere potrebbe essere un altro riferimento alla cultura aeldari in questo caso si potrebbe avvicinare questa questa frase un po enigmatica a mio parere o a kain al culto di kain e quindi all'avatar di kain e quindi a tutto ciò che concerne la mitologia eldar intorno a questa divinità ridotta in frammenti divinità anche qui dell'omicidio della guerra come l'antesignano poi visto anche in warhammer fantasy ed è il mio pensiero un po più come dire ricorrente quando vedo quando leggo queste parole altrimenti bisogna scavare altrove ma io tengo per il momento buona e valida questa possibilità perché i riferimenti al fuoco ea quello che poi porta al alle ceneri ciò che rimane alle ceneri stesse mi fa pensare molto 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 fortemente proprio a kain come come essere divino e alla alla sua appunto siamo caratteristica di divinità fiammeggiante di grondante di sangue ma anche sangue e fiamme un parallelo che porta a che cosa quando vengono utilizzati poi anche se ci pensiamo i frammenti dell'avatar di kain portano effettivamente ad un consumarsi e alla fine appunto alle ceneri agli echi che rinangono appunto in sospensione quindi questa penso sia un altro riferimento interessantissimo comunque sia di fondo alla razza aeldari e quindi di nuovo torniamo su un aspetto che abbiamo potuto già constatare la volta scorsa e che molto probabilmente quasi con ogni certezza vedremo un ritorno di modelli eldar ma in questo caso la mia speranza di vedere anche un bel modellone importante un bel modello rifatto e riproposto proprio dell'avatar di kain che effettivamente è iniziato a invecchiare sempre di più e oggigiorno ha i suoi anni e il peso inizia a notarsi davvero tanto proseguendo in sedici si va invece verso qualcosa di a mio parere completamente diverso e che a notare si può intendere come 22 corna due corna magari poste proprio su un capo una testa notando anche qui la forma di ciò che sta sotto le corna stesse come potete vedere forna che vedendole così mi ricorda portano fortemente corna legate comunque all'atmosfera caotica alla sfera del caos ora si potrebbero declinare su demoni di qualche tipo demoni non tanto di nargol perché nargol solitamente ha queste corna attorcigliate bucarellate e rose quasi dal dal malanno eccetera eccetera e quindi no sono corna di corn nemmeno perché spesso e orientieri si denotano più come corna vere e proprie caprine quindi immaginatevi non so tipo i montoni o gli stambec cose del genere con zingrinature lungo tutta la superficie queste sono corna seghettate che o posso avvicinare più facilmente a roba legata a slanesh oppure qualcosina potrebbe essere rimandabile anche a zince ma in questo caso voglio essere un po più vicino alla linea di slanesh anche perché ce lo siamo detti l'altra volta un'ipotesi di ritorno insomma in pompavagna vicino agli eldar o a eldari secondo la nuova denominazione potrebbe essere proprio di di natura slaneshita e quindi anche magari chissà dei figli dell'imperatore i figli genetici di fulgrim potrebbe essere in ogni caso il mio pensiero porta appunto a qualche magari campione di slanesh una qualche forma di demone minore di slanesh tipo demonette ma sotto forma differente ovviamente chissà chissà però sono corna che io correlo fortemente al caos in questo senso andiamo avanti perché il 17 invece arriva qualcosa che è completamente diverso nella fattezza abbiamo una sorta di mazza potenziata e presa di questa da questa angolazione si può diciamo andare un po' a confondere tra diverse cose potrebbe essere anche qui caos tranquillamente perché comunque sia la connotazione di questa arma è sempre qualcosa che si può rimandare al caos ma in questo caso anche qui slanesh slanesh utilizzarmi differenti solitamente questa è una mazza molto spigolosa anche se volete un po' raffazzonata se si guarda che potrebbe far parte più che altro magari del caos indiviso o qualcosa che si può correlare anche più specificatamente a corn però se si guarda poi sotto e si notano appunto innesti di questo tipo anche qui il dubbio sorge potrebbe essere invece qualcosa di più vicino che ne so alla dmec oscuro difficile capirlo così su quello che è l'immagine anche preso da questa angolazione perché mi piacerebbe vedere cosa c'è sul piatto di questa di quest'arma sotto poi riprende con un'inserzione che potrebbe sembrare un po' metallica un po' di legno difficile anche qui difficile estrapolare e comprendere davvero in maniera pulita ed è giusto che sia così qui sono comunque rumor engine quindi spesso cercano anche di portarci in inganno a mio parere comunque la sfera caotica anche in questo caso rimane ma si tratta di qualcosa di completamente anche diverso forse da dalle corna viste il giorno 16 voglio pensare alla dmec oscuro ovviamente voglio pensare di nec oscuro ci voglio credere anche soltanto qualcosa che si possa rifare lì altrimenti mi viene da pensare appunto qualche tipo qg o comunque truppa elite del caos indiviso una cosa del genere proseguo arriviamo al 18 12 quindi il giorno successivo e viene pubblicata questa immagine questa immagine sono sempre le più difficili da da comprendere secondo me le più complesse perché abbiamo un paio di catene di cui una completa di uncino questa sotto e l'altra che appunto finisce con uno degli anelli della catena anche spezzato una cotta di maglia è un limbo di vestiario potrebbe essere pelle potrebbe essere soffa comunque vestiario ora anche qui molto fortemente potrebbe essere fatto richiamo ad un elemento caotico catena con uncino cotta di maglia anzi addirittura cotta di maglia mi rimanda molto di più al mondo fantasy però cotte di maglie esistono anche seppur in maniera un pochettino più nascosta e sommessa anche in 40k io qui più che il caos ho pensato anche ad un'altra cosa un po più arzigogolata ma ci ho pensato l'utilizzo di uncini di catene soprattutto non è un'esclusiva caotica c'è un'altra fazione sempre tendenzialmente contraddistinta per il suo essere malvagia seppur in altri modi e fa largo uso di catene uncini torture eccetera che sono i dark elder i drucari io vorrei credere che questo elemento sia tratto da un modello di qualche tipo magari di truppa drucari è un piccolo come dire sogno personalissimo probabilmente perché molti andando anche a spulciare un po online ho notato che si sono buttati molto sull'ipotegi anche qui caotica perché appunto la contrapposizione a eldari e caos anche se non specificato caos è molto potente molto anche golosa me ne rendo conto però data l'idea che vi avevo portato l'ultima volta quella di vedere la fazione degli innari condotta alla nostra attenzione secondo però una calata all'interno delle varie sottoculture che fanno parte degli innari quindi arcamondi eldar drucari arlecchini mondi vergine insomma tanto tanto di più unito sotto appunto la guida della sacerdotessa di inned mi ha fatto pensare perché no perché non voler provare a immaginarsi qualcosa del genere poi magari non lo sarà mai però io ve la butto lì mi piace stuzzicare la vostra curiosità la vostra attenzione e e anche un po andare contro corrente mi piace mi è tanto mi piace anche a me piace anche a me quindi lo faccio e ipotizzo qualcosa per anche possibilmente per i drucari chissà che si veda un bel rifacimento di qualche cosina dei drucari dopo l'ultima cosa che abbiamo visto che vi ricordo sono stati gli incubi e drazzar per la prima il primo libro di risveglio psichico dopo quello praticamente quasi più niente andiamo oltre perché vediamo un'altra immagine secondo me molto difficile da interpretare ma che anche qui quella del 19 io ho voluto ricondurre a ciò che già ho accennato sopra vediamo questo elemento che essenzialmente un meccadendrite un meccadendrite che in parte abbiamo forse anche già intravisto seppur con fattezze differenti l'ultima volta ve lo faccio rivedere vedete anche questo è comunque un meccadendrite con una conclusione metallica molto più minacciosa e molto più caotica in questo caso è qualcosa di un po più ordinato ma pur sempre si parla di un armamentario o comunque sia un elemento che vorrei nel mio pensiero associare al meccanicus oscuro e in particolar modo l'idea forse più ricorrente che più sta andando per la maggiore anche a livello insomma di community è quella di un world smith ora vedere un world smith sicuramente sarebbe piacevole anche lì parliamo di modelli che necessitano di un po di amore un po di attenzione però potrebbe anche essere altro meccadendrite mi ricorda molto alcuni elementi visti anche con dei modelli forge world rilasciati all'incirca intorno all'anno due anni di distanza quindi è comunque qualcosa a livello proprio di di queste placchette che compongono proprio il meccadendrite che abbiamo già potuto vedere che quindi si proprio rimandano si rifanno fortissimamente in quel senso la parte conclusiva è comunque composta da elementi metallici che alcuni dicono potrebbe essere necron io ci credo molto poco la roba necron è sempre roba molto più raffinata molto più coerente compatta spesso e qui sarebbe andata a concludersi con un qualche tipolo di di cristallo di pietra nera frammento di pietra nera capace di incanalare energia dello spazio materiale come ben sappiamo e rilasciarla di conseguenza poi come arma questa è una cosa molto diversa e non credo proprio di poterla associare ai necron anzi è molto lontana quindi tutt'altro e quindi voglio crederci se non sarà warsmith sarà sicuramente qualcos'altro di avvicinabile al meccanicus oscuro vedere in futuro però questo è un altro piccolo sogno oggi butto qui un po di idee una fazione con proprio codex con proprio regalamento con proprie armate giocabili sul tavolo del meccanicus oscuro è una cosa che aspetto da tantissimo tempo una fazione diciamo non nuova per chi conosce la narrativa ma nuova per il campo da gioco effettivamente quindi mi piacerebbe molto e queste rimandi anche qui il 19 come abbiamo già visto mi fanno sperare mi fanno sperare come dire anche solo un appetizer una preparazione ma andiamo oltre andiamo oltre arriviamo al 20 ci stiamo avvicinando in realtà già verso le immagini finali ma poi continuerò un altro pochino con altro abbiamo una seconda frase una seconda seconda di queste immagini con parole al loro interno parole che ci portano a mio parere in questo caso verso un'altra fazione del Dari sono parole molto più anche qui misteriose a volte da da un'eleganza maggiore rispetto a quelle parole di quasi promessa di morte e di appunto ceneri di fuoco che consumerà io abbiamo appunto parole che rimandano più ad un'altra cultura al Dari che è quella degli arlecchini a mio parere si potrebbe parlare di una canzone degli arlecchini o comunque sia una poesia degli arlecchini un qualcosa che appunto può rimandare al canto alla volendo a livello di immagine mentale che ci può creare alla danza letteralmente quindi canto che accompagna danza una danza però di ombre una danza sfuggente che si avvale dell'utilizzo della della tenebra della della rapidità da webway ok quindi ho voluto in questo senso pensare se prima ho pensato appunto a cain in questo caso ho voluto pensare a cegorath al dio ridente e quindi avremo un altro pezzo di un'altra cultura che c'è gorath l'unica divinità diciamo ancora operativa praticamente quasi pienamente degli eldar prima della caduta poi successivamente è proprio cegorath il dio ridente degli arlecchini e poter avere un anche soltanto uno stralcio di un di un questo di questa caratura verso gli arlecchini mi fa ancora più pensare proprio alla possibilità di non vedere soltanto gli eldar degli arcamondi o uso le cose ma di poter immaginare un unione delle varie fazioni e quindi la speranza di nuovo di vedere una box o comunque un rilancio di innari come innari contro il caos si fa sempre più intensa sempre più presente io voglio crederci sempre di più non solo arcamondi ma anche altro non solo guerrieri d'aspetto ma anche altro e arlecchini comunque a me male insomma non fanno non mi dispiacciono arriviamo al 21 12 con un'immagine anche qui testa caparina sostanzialmente con corna tutte arricciolate no su loro stesse si parla in questo caso di un bucranio sostanzialmente lo si definisce così anche in storia dell'arte il bucranio di differenza dal bucefalo il bucranio espone le ossa il bucefalo è testa tagliata ma non scarnificata piccola differenza che si può vedere ad esempio se pensate ad alcuni tempi soprattutto della della grecia post però assimilazione da parte dell'impero macedone e poi successivamente dei regni e che arriveranno con la morte di alessandro magno soprattutto nella zona se pensate ad esempio all'anatolia ecco parliamo di quella zona lì ci sono dei templi che sono stati per buona parte poi presi e spostati in germania nei musei tedeschi che riportano bucrani e bucefalo in questo caso si potrebbe parlare di un bucranio ora al di là dei tecnicismi ho voluto metterci di dentro così in in corsa sono elementi solitamente solitamente vicini anche qui di nuovo che cosa al caos poi è difficile contestualizzarlo in questo senso perché sembrerebbe quasi una copertura o di un busto o di un di una cintura addirittura che poi successivamente nella parte sottostante prosegue con una sorta di pelliccia di un animale di una creatura mentre sopra si intravedono degli elementi diciamo incisi che potrebbero essere non so elementi di una di una natura potenziata quindi potrebbe essere una caratteristica di un campione del caos di qualche tipo di un space marine caotico magari elite anche qui ritornano questi termini potrebbe essere tranquillamente potrebbe esserlo sicuramente però anche qui si parla di nuovo di caos non so qui la vicinanza slanesh si e no si e no può essere di tutto davvero di tutto però sicuramente si parla di caos andiamo infine all'immagine del 22 immagine del 22 che poi è l'ultima immagine del giorno perché ecco le ultime saranno quella di del 23 quella del 24 immagine del 22 è in questo caso di nuovo a mio parere un'immagine che si può avvicinare quasi con ogni sicurezza ad una fazione che quella caotica si vedono due punte di picca sostanzialmente con un altro elemento davanti da secondo me non sottovalutare che questo corno che probabilmente fa parte del modello che porta questo standardo verificante è presumibile che oltre a queste due picche ce ne siano almeno un'altra da questa parte qua e chissà che non ce ne siano delle altre ancora più sotto che vanno a comporre l'ottapunte o comunque sia un rimando a quella simbologia caotica si vede un appunto un teschio quindi già lì da un po' e una testa invece che ancora attaccata pelle occhi quindi molto più fresca con degli standardini delle piccole bandierine molto lugore accompagnate legate proprio alla base della picca stessa ora a a vederla così è quasi un'immagine che rimanda più ad age o sigma che al 40k però si potrebbe vedere non lo so qualcosa di più vicino ad un raffazzonato un raffazzonato mi fa pensare a che cosa mi fa pensare a una diciamo fazione maggiore dell'enormità di quelle offerte dalle forze caotiche anche nel warhammer 40.000 che sono i perduti e dannati perduti e dannati per intenderci sono tutta quell'enormità semplificando di persone che un tempo abitavano i mondi imperiali e che si sono per un motivo l'altro possono essere davvero molteplici votati alle divinità oscure e hanno iniziato a seguire una via che le ha portati mano a mano a cadere sempre di più nel turbinio del caos e spesso volentieri queste unità sono usate come carne da cannone dalle forze magari di space marine del caos dei demoni vengono utilizzate appunto alla bella e meglio anche solo per far spendere munizioni al nemico e si armano con un po di tutto hanno magari armamenti della guardia recuperano roba caduta a terra da ad altri che sono caduti prima di loro si buttano addosso pelli si buttano addosso elementi magari di minatori eccetera eccetera quindi sono un esercito di 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 truppa base sostanzialmente estremamente variegato ma che appunto nella sua nel suo essere variegato raffazzonato e decadente possono mostrare una foggia infinita di possibilità e questa potrebbe anche essere una di quelle dato appunto le picche addirittura con le teste infiltrate dentro questi legacci con dei drappeggi logori si lo sa magari è un piccolo campioncino dei perduti e dannati che sta cercando di guadagnarsi sempre di più il favore degli dei oscuri la voglio buttare fuori un po così ora per il momento rumor engine finisce anche qui però voglio prima di concludere la parentesi anche di oggi questo secondo appuntamento voglio farvi notare un'altra cosa che l'altra volta non abbiamo visto ma che già iniziava a mostrare un proprio pattern e che si può notare soltanto attraverso gli articoli sul sito di warhammer community dove andiamo appunto questo è la home di warhammer community attualmente oggi è uscito il trailer di exodate che è una serie animata di warhammer 40.000 presente su warhammer plus che magari in futuro avremo modo di commentare abbiamo la possibilità attraverso questo sito di avere accesso diretto a gli advent engine ho preso a caso quasi a caso in realtà le schermate intere vedete questa è la schermata del 4 dicembre intorno alla cornicetta che abbiamo già avuto modo di commentare non ci ritorno sopra viene portata una un piccolo paragrafetto proprio un paio di righe niente di più con qualche diciamo incipit qualche rimandino qualche diciamo modo anche di stuzzicare chi legge intorno a i riquadri singoli che abbiamo visto sul sito di world boss kurgan è una un cerchio più grande con degli elementi che se guardiamo e si può vedere immediatamente da qua rimandano in maniera estremamente diretta alla cultura di nuovo eldari ci sono rune appunto eldari ci sono gemme dello spirito eldari sotto ci sono altri meccanismi dell'ingranaggio questo potrebbe essere inteso benissimo come elemento di wright bone quindi del materiale qui vengono composti gli arcamondi o anche gli spettro custodi spettro cavalieri sono tutte quelle macchine da guerra eldar che vengono abitate dalla dallo spirito eldar contenuto all'interno delle pietre dello spirito e quindi qui tutto bene diciamo si parla all'interno del riquadro di roba probabilmente eldar questo lo siamo già visto intorno c'è un elemento grafico che rimanda quella cultura e tutto va bene ma se noi andiamo verso un'altra schermata questa è quella del 15 dicembre allora all'interno si parla ancora abbiamo detto oggi si parla di qualcosa che può essere rimandato a kain l'abbiamo detto ma nel mentre c'è stata un'evoluzione alcune parti di questa di questa schermata tondeggiante esterna hanno mutato sono apparsi dei tentacoli alcune delle zone che abbiamo detto prima in wright bone sono state intaccate da una corruzione che porta denti alcune appunto delle pietre dello spirito sono diventate degli occhi occhi con pupilla aguzza quindi anche qui demoniaca ci sono colori che iniziano a prendere il sopravvento del viola violaceo viola rosa anche la schermatina quadrata quindi la cornicetta quadrata inizia a mostrare queste appendici sono per il momento qui ad esempio sono una due tre quattro e cinque ma guardate la dimensione e la forma che hanno sono delle delle punte di freccia sostanzialmente chi più accennata chi più definita e prendono la posizione di quello che potrebbe diventare molto tranquillamente un simbolo caotico a noi molto noto ma infatti se noi andiamo all'ultimo engine proposto questa è la situazione al giorno d'oggi la cornice tondeggiante esterna è praticamente mutata del tutto l'elemento eldar non esiste quasi più abbiamo una superficie completamente ricoperta da una carne a questo punto vera e propria anche qui si è connotata completamente di viola e di oro e di oro sono due colori e qui voglio voglio parlarvi un po sono due colori viola rosa e oro e si rifanno ad una fazione ad una fazione nello specifico è quella proprio degli emperor sildran quindi dei figli dell'imperatore fulgrim e guardate a questo punto lotta punte si è del tutto formato le frecce si sono allungate hanno preso posizione gli occhi sono spuntati ovunque gli elementi di prima sono stati sostituiti del tutto e si sono connotati con questi colori qua oro viola rosa tanti tentacolini qua e là che spuntano un po dappertutto mutazioni che si vedono spesso anche di continge ma spessissimo anche con slanesh i due che a livello di mutazioni se la battono da questo punto di vista poi c'è va bene argol che offre tutt'altra tipologia di gamma e quindi non lo so magari non vuol dire niente chiaro può esserlo stiamo speculando ma potrebbe significare qualcosa oltre a questo ultimo elemento che voglio commentare è la presenza comunque diciamo rispettosa di quello che già c'era prima che erano questi ingranaggi sottostanti gli ingranaggi sono rimasti se guardiamo il primo giorno e l'ultimo gli ingranaggi sono stati rispettati praticamente non hanno ricevuto modifiche incredibili sono sempre loro le inserzioni sono cambiate ovvio c'è carne c'è c'è appunto elementi di metallo dorato dal tutto diversi però le inserzioni sono quelle che sia effettivamente una possibilità anche qui intrinseca o rimando a qualcosa del meccanicus oscuro che unisce sappiamo il quanto il meccanicus oscuro nelle sue creazioni sappia unire carne e redometallo lo fa in maniera ovviamente del tutto corrotta lo fa senza seguire nessuna delle regole che invece nell'adeptus meccanicus sappiamo essere molto rigide spesso e chi come ad esempio un certo bellisarius cole cerca di uscire al di fuori di quei tomi di regolamenti antichissimi impostati e rimasti intonsi da sempre venga mal visto però l'elemento meccanico rimane nel meccanicus oscuro non è che viene tolto viene integrato da tecnologie più spinte e unite a quelle della magari della dell'utilizzo della carne usa al metallo ripeto e qui c'è un elemento di questo tipo perché quegli ingranaggi non sono stati ricoperti sono stati integrati uniti malleati insieme chi lo sa potrebbe essere un riferimento potrebbe non esserlo ma io voglio voglio pensare che ci sia una strizzata d'occhio anche da questo punto di vista io torno in full camera perché voglio leggere un attimo se c'è qualche commento in chat anche perché è integrativo pur magari poi se recupererete questo questo video dopo su youtube mi piace che ci sia anche un po la parte della chat quindi adesso leggo un pochettino quello che la chat magari ha voluto lasciarmi qua e ovviamente poi per chi vede il video l'invito è anche a raggiungermi su twitter dove parliamo di tanto altro parliamo di anche di l'orma di tanto altro di tanto altro venite venite che vi aspettiamo allora c'è parecchio da leggere vedo che vi siete diciamo sfogati sfogati allora saluto intanto chi è arrivato saluto desa saluto wild e allora vediamo un po vediamo un po magari un avatar non tappo per immagino questo sia un riferimento appunto a kain e mi piacerebbe molto io kain è una divinità che si sostanza attraverso appunto le shard i frammenti con secondo me quella quella potenza divina anche soltanto in una minima parte che deve incutere timore se tu guardi poi il modello anche soltanto sul campo di battaglia soprattutto mettendolo a confronto con i modelli più moderni purtroppo quella potenza divina viene molto a essere depotenziata per l'appunto ed è quasi comico che ci sia questo modellino piccolissimo di fianco a roba magari molto più tranquilla a livello di potere nel nel background senza parlare di regole da tavolo però è sempre diciamo un po deludente alla vista ecco perlomeno così dal mio punto di arlecchinarsi dice wild e lì sono d'accordo io poi lo butto lì non non voglio non voglio come dire darvi le mie suggestioni come se fossero il mantra unico anzi vi invito a contestare buttare i vostri pareri perché sono importanti perché il confronto in questi sensi può generare discussione e può generare soprattutto divertimento di provare a indovinare che cosa arriverà poi alla fine perché penso che nella nella fine di di questo advent e già prima della fine dell'anno qualcosina in più potrebbe già arrivare quindi vediamo e potrebbe essere interessante ecco questo discorso qua quel pezzo di mantello mi sembra un po quello dell'arconte dice shardier esatto e per questo infatti ho voluto mentre vedevo le immagini sono andato a rivedermi un attimo le miniature sul sito games workshop molto banalmente di quelle attuali di quelle presenti attualmente in catalogo ho notato in primis che sparito il warsmith vecchio quindi già questo spesso volentieri in passato è stato sintomatico per l'arrivo di un nuovo modello a sostituire quello tolto dal mercato gv e andando a vedere appunto nei vecchi modelli eldari soprattutto trucari ho trovato un po di queste diciamo similitudini similitudini che io voglio sostenere in questo senso e quindi speriamo che sia così perché sinceramente modelli trucari nuovi servono come il pane servono come il pane ma come per gli elder come qualcosa anche per gli arlecchini sarebbe giusto io la cultura eldari nella sua totalità apprezzerei vederla spolverata rivista ciao zanghi ben arrivato ciao smoke buonasera butola ben arrivato ben arrivato avattaro intanto saluto tutti e esatto c'è guarda terra l'unico esatto l'unico che stava in smart working e quindi non è stato distrutto dalla nascita di slanesh la storia racconta questo e ragazzi niente da dire stiamo parlando dell'advent engine dico per chi si è connesso attualmente e vediamo un attimo vediamo un po se ci sono altri commenti a parte gv prendimi i soldi che ormai è troppo per fortuna a voi l'arto sentenza è un mantra sempre presente con noi sarà una metafora per la trama sul fatto che muoveranno gli ingranaggi ma non penso faranno modelli della di mecco scuro di smoke allora potrebbe essere anche quello è perché alla fine dei conti l'ho già detto in passato lo ripeto oggi la fazione a eldari e in particolare quella degli nari è in potenza in potenza una fazione che può davvero smuovere fortemente la narrativa anche macro narrativa dell'universo di warhammer 40.000 lo può fare perché si parla di cose estremamente radicate nel confronto col caos nella battaglia contro il male che cinge tutto e tutti che appunto è il caos e un nemico eterno una profezia che dura da millenni e millenni e millenni insomma ci sono tutti i presupposti per oltretutto una divinità che sta nascendo che appunto era divinità dei morti eldar tutti i presupposti per dire con questo noi muoviamo un po gli ingranaggi della narrativa del nostro universo narrativo gioco di parole orribile ma voglio ribadire la potenza del termine narrativo ok e quindi potrebbe essere potrebbe essere un'interpretazione più fine sicuramente molto più fine della mia che invece vuole essere materialista vuole essere pragmatica vuole andare a cercare il modello quasi forzatamente e vediamo e vediamo perché potrebbe comunque andare benissimo anche se non arriva niente di nuovo del tutto nuovo perché il world smith ragazzi è quasi sicuro a sto punto che arriverà però niente di nuovo effettivamente per la di mac oscuro vediamo magari faranno una doppia cosa riguardo slanesh a livello di loro e modelli su grammar 40k e magari anche su agio sigma quella sì che sarebbe una sorpresa ecco questo sarebbe una cosa che mi stupirebbe molto perché diciamo che nell'ultimo periodo negli ultimi proprio nell'ultima parentesi mensile è stato molto spazio per il 40k e un po meno spazio non dico sparito dai radar agio sigma perché comunque stanno lavorando continuano a fare delle cose pazzesche per haos però diciamo che dopo aver visto tantissima roba con i dracotion tutto quello che è successo quest'anno con agio sigma la nuova edizione crudelatti eccetera eccetera ci stava anche un'attenzione maggiore proprio su il 40k quindi mi stupirebbe anche a me ma qui rimango più dubbio rimango più sul chi va la vedremo vedremo e se sarà così ben venga comunque perché una doppia dose di slanesh davanti tutti i due fronti sarebbe sarebbe interessante sarebbe molto molto interessante va bene va bene io penso che per il momento ci si può fermare qua con questo secondo appuntamento del dell'advent engine che probabilmente sarà anche l'ultimo le ultime due immagini potrei fare anche una cosa carina e commentarle in un altro momento oppure se gv alla fine dell'advent ci diciamo regalerà una un video o qualcosa di più concreto e comunque pre-release ufficiale potremo fare un terzo episodio in extremis proprio per concludere l'anno e chiacchierarne a riguardo vediamo vediamo se ci si incastra bene o seppure non si riuscirà e lo rimanderemo all'anno prossimo io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete venire anche tranquillamente a trovarmi qui su twitch sempre sotto il nome di stefano 117 e è nulla spam fatto andate in pace miei cari alla prossima